bene io ho appena utilizzato il servataggio di questa persona che che sta in questo in questo safe game e in questo suo profilo mi dispiace che devo fare un altro in giacno dopo un altro contempo insomma per poter gestire la situazione raga perdonate la serie non dov'è andata così ma il bug mi ha sconvolto sto qua non ti muovere in guardia non hai vergogna di batterti per un bacio non ti muovere guardia riparare roba di nuovo vieni dunque ad assaggiare il mio flagello vieni dunque ad assaggiare il mio flagello vieni qui e ti chiamano guerriere sto trattenendo i miei colpi contento siamo in un assedio non risparmiamo nessuno perfetto se avete visto i due episodi scusate nella libernazione di robin e di uccisione di conchamp dovete sapere che alla fine del video ho avuto un problema ma forse l'avevo già scritto nell'altro video se non l'ho scritto perché mi sono scordato però c'ho troppe cose da fare mi sento meglio e praticamente è successo che è gentile ma francamente non serviva si è ingruttato quella parte di video e che era tutta buggata proprio mi ritengo di grafica così come quando successe poi quel fatto il motivo per cui io non portai più una campagna è stato proprio quello cioè è stato proprio il fatto che è stato proprio il fatto che è stato proprio il fatto che mi aveva questi bug granchi che mi facevano vedere tutto lo schermo verde, giallo, azzurro a un certo punto perché neanche ho baleno e allora mi sono detto vabbè a sto punto e quindi niente sono un po' triste per questo perché il gioco è meraviglioso ma c'ha un bug che è angucinante al sogni d'oro e mui in pace e zitto anche bim cosa c'è laggiù bim vieni dunque ad assaggiare il mio flagella bim cosa c'è laggiù vieni qui piccoletto arrivederci comunque mi dispiace ancora per tutti questi problemi però ci sto riuscendo a gestirli senza troppo rifronzo certo non è come pensavo ma è meglio di niente insomma vieni qui piccoletto vieni qui piccoletto perfetto vieni qui piccoletto vieni qui piccoletto che bucio di culo vieni qui questa zona è stata liberata proviamoci per il di qua facciamo questo conto generale ok proviamo mamma mia ma come 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 c'è qualcuno ah ma l'ho sentito ah adesso l'ho sentito vieni cosa c'è vuoi morire sei aio aio ho di nuovo graffiato l'armatura questa zona è sicura ma robin ha liberato le porte est della città rano fin via una squadra per impadronirsi del quartiere sud mamma mia bellissimo vai stiamo andando molto bene contro ogni aspettativa sogni d'oro dormi bene voglio sono uno di me difendite vi faccio non è che esbrigativo ma è così efficace non hai vergogna di di batterti per il tuo no 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 non mi avrai di questo se ti vedesse tua madre mettila di muovarti no no non ti fai piuttosto bene assaggia troppo per tengo non hai vergogna di batterti per il sellone ce mi fai piuttosto bene viva riccardo re di Inghinterra ahahah ha qua ha 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 vittoria sei una store ma raro non hai vergogna di batterti per il pallone indovina chi va a morire roba di nuovo smettila di muovere andiamo a fare qualcosa ti tieni alla tua testa mancato in guardia cosa roba di nuovo non fa male non fa male perfetto franco d'incapaccio l'attacco è impazzito tutto non riesco a crederci è impazzito attenta se fa male vuoi morire si guardati all'attacco attenta se mi faccio vedere chi va la fatevi riconoscere bene smettila di muoverti sono il migliore prendi questo marrano prendi questo marrano franco d'incapaccio indovina chi va a morire ho sentito il rumore a chi tu vai in foca di volca e la farò vedere io fa male fa male la vedremo velocezza il prossimo mamma mia uccidino oh impazzito pazzo sgravato per bacco questo è coriato anche vedici come tanto ammazzare ah 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 di volco cosa fa quello scalza fatica per bacco non ne ho più ma è morto eh buon ciò oh dai rovigliacco rinnegato viene dunque ad assaggiare il mio flagello in guardia non fa male ah sto trattenendo i miei colpi contento ah abbiamo vinto aspetta aspetta ah ah ma qua ango ah non fai soddisfatto grazie a roba di suoi uomini occupano ormai io non me lo so faccio di possedio di satecide fa male vabbè no continuiamo a chi? mancato fa male vuoi morire si? io voglio fare questo infatti fa male attenta te sono troppo forte per te sei una sciappa ti difendi piuttosto bene non mi avrai è tutto qui? no vieni dunque ad assaggiare il mio flagello ma tu sei un pazzo sei senti senti non è non mi voglia che ne come sono stare le montagne in fila attento a te prendi questo gli arcieri dietro ti attacco jung jung è caduta zitti zitti ma che calza succeda stagione ma doverà tanto pegno fino a mo ahhhh binchiare ma se non ci avvicino a jung va bene eek ma Va bene Nel prossimo episodio Quindi faremo I prossimi Le prossime Insomma Capito Le difese E Se non No Devo portare in missione Perché io non so che cazzo Succede a sto gioco Quindi vi porterò Un'ultima mission Una delle ultime missioni No, ultima missione Annottica Ragazzi, perdonatemi Ma Devo Devo essere molto feroce Per fare ciò Perdonatemi Quindi Ci vediamo Aspettate Ci vediamo Però Nel prossimo episodio Dove faremo un'ultima missione Di Appunto Robino Di Nudge of Shepard Mi dispiace un sacco Che Questo Serie All'ultimo Si stia perdendo un po' Ma non ci posso fare niente Purtroppo Mi dispiace Ciao ragazzi Grazie a tutti